Lei è appena tornato da Roma, ci aveva annunciato questi incontri per la questione del debito, ci può dire come è andata, chi ha incontrato? Abbiamo cominciato incontri importanti, innanzitutto sono stato in Anci, perché il ruolo dell'Anci nella predisposizione di una proposta normativa è fondamentale. Personalmente con i miei uffici abbiamo contribuito a costruire un quadro giuridico concordato con altri sindaci e con l'Anci, da sottoporre già da queste ore, da questo pomeriggio in Parlamento, in sede di discussione del DEF, e quindi il primo passaggio importante è in Anci. Poi abbiamo fatto anche un passaggio a Palazzo Chigi per cercare di chiudere definitivamente questa che rischia di essere senza fine questione del CR8, anche perché potrebbe nelle prossime ore cambiare completamente il quadro di governo e ci hanno assicurato che non c'è nessun ostacolo e stiamo veramente agli atti finali e quindi questo è importante perché significa dare il via libera definitiva all'eliminazione del pignoramento sulle casse del Comune di Napoli. E poi ho cominciato, anche se in modo riservato, perché siamo in una fase a Roma, potete immaginare che ci teniamo in ore assolutamente decisive per il quadro politico-istituzionale, ma ho cominciato a fare degli incontri con figure politiche di riferimento del Parlamento della Repubblica, importanti, dove abbiamo discusso di enti locali, di Napoli ma non solo, sempre un ragionamento tra diverse città interessate alle medesime questioni e abbiamo soprattutto, quello che sono più soddisfatto, abbiamo portato non solo i problemi ma le soluzioni a nostro avviso, che sono soluzioni che almeno i nostri iniziali interlocutori ci hanno detto praticabili qualora ci sia la volontà politica e dai primi incontri è sembrato di registrare un'attenzione politica importante su questi temi che chiaramente soprattutto se si dovesse andare a formare un governo nelle prossime ore questo aiuta molto.